Io devo riconoscere che sia l'intervento di Polizio che quello ultimo di Massimo Ludice potevano anche fargli sbagliare una introduzione che poi è duerosa, però anche con questa debolta del successo che la Consigliere ha anticipato il mio intervento. Non ho condiviso assolutamente l'intervento del Consigliere, io credo. Mi dispiace che sia una domina, ma credo che l'esistenza già pagina, probabilmente ho indotto tutto per testimoniare anche il senso della sua considerazione, a delle considerazioni che hanno poco o comunque a che venire, con una domanda che è oggetto della decisione che è un'intervento di Stasera. In piano casa, purtroppo l'hanno detto Polizio, noi possiamo inserire le discussioni sull'attivo 7, come 5. Ma se dobbiamo per un attimo anche sviluppare un ragionamento, se fossi potuti la produzione principale, io personalmente scriverei in una perplessità che è in ordine alla possibilità del progetto del 20% per i popoli, 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 e ancora di più, una perplessità in ordine alla stessa costruzione con il intervento del 20% e fortunatamente, fortunatamente la nostra città percora agli anni, agli anni, e poi cresciuta dal punto di vista un'ultima, da questo punto di vista, una legge, una legge, una legge che vende del 25%, non va più tempo, questo lo vedremo poi nei prossimi mesi. Poi ci sono dei conti conti a poche, perché ci sono già molti balanziati, quindi quello che sta andando in questa condizione è davvero nessuno. Sempre vi convince un'altra razza della legge quello che riguarda gli altri testi. e noi, in questo senso, noi abbiamo sempre, in considerazione della libera, della giunta pernata, abbiamo ampliato la possibilità di definire la legge, la legge, la legge, la legge, la legge, la legge e quindi ci si tratta della legge. Qual è il dibattito? Quella propende, no, le manche, non ce la vedete, a costitare, gli regalamenti del sistema di unice, quindi, di unice, quindi il polizio, che ho deciso alla legge ed è un'attivazione, che il senso e la legge da sollevano, ma non ce la vedete, quello che non ci si tratta di un comprovo per capire ma la possibilità, la possibilità di una situazione. Nel fatto in quale tutti gli uomini e anche il fascicolo di vedere la foglia dell'essenza e il materiale di risposta turistico, ma direi che non ci sia la volontà di venire in concito comunale, ma direi che non ci sia la volontà di venire in concito comunale su alcune questioni culturali e sulle attività. C'è la volontà di venire in concito comunale, per esempio per quanto riguarda la situazione delle armi, per quanto riguarda la situazione delle armi e tal. Io credo che un concito semplice possa essere anche comoda. Ma lo dico, non perché alla fine, nel senso del Consigliere 11 ha subordinato il numero, per quanto riguarda la situazione delle armi. Perché, evidentemente, ma intendi, la norma che noi abbiamo in vaccinale, è quella che si decida per i uomini, per quelle che sono le conoscenze delle armi, e ci sono tutti quanti voi ne ho apprezzo che possono interessarli ai propri occhi, o peati pochissimi. Quindi, per attività, non si dicono come si interviene il信ico in cui ci è uscito immenso questo vestito. Si determina che la storia di Cernano è dispensa da tre anni, noi, riguardiamo un'area, riguardiamo un po' parte della nostra città e andiamo a farlo vedere che tutto questo non aggrava il suo istante perché tutto deve entrare con quello che è possibile. Per esempio il stato di Cernano ha integrato la JV, ha integrato il centro dell'Ansuco Sociale, dove anche qui, lo Stato esista è o che dicevo, e noi il suoi cammini del campo, esatto, s'è un chiamato, confusionali, per elementi vigorosi, attraverso il bilancio e alla centena che riprenda il centro dell'Ansuco di Cernano, che veramente risponde, non risponde, non risponde, a tutto che si serve in parte delle valorazioni. Qual è il caso di un'amore e di un'amore sociale? Queste sono le questioni che un uomo del nostro, perché è una legge che ci dà questa possibilità di difendere, come la legge stabilisce in modo chiaro, perché le intervento del Consigliere, perciò il fatto di difendere, ma la legge dice che si stanno cambiando, ma la legge si stanno cambiando. Non è che c'è un'attività, come si stanno cambiando su altri oggetti. Anche da questo punto di vista. Io credo che noi dobbiamo essere tranquilli che il lavoro dell'assoluto del Consigliere c'è una parte di tensione della classica osservanza dell'assoluto risultato, c'è una parte che non potrà essere, perché c'è un'attività, 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 e poi c'è un'attività, che ha provveduto a reputare, a riportare, quando le imprese a costruire, erano stati rilasciati in precedenza, e poi c'è un'attività, e poi c'è un'attività. E poi c'è un'attività, perché evidentemente, c'è un'attività, che si parla di Gertan, che dicevano gli uomini, che parlavano di tutti i popoli, che guardavano gli uomini, che hanno fatto il punto di vista, perché invece, invece, in questi anni, da questo punto di vista, ad esempio, si impronta, per quanto si parla, come si parla di un'attività, ma non è una cosa, io voglio spiegare, altri dicenti, ma è un atto, ad ammuntare, un atto, per vero illegittimo, ma se c'è qualcuno che ha diritto, c'è qualcuno che ha diritto in ogni momento della risposta, della data, con la determinazione che è stata fatta per la vita. E qualche momento è venito al dirigente di procedere in potenti incontri, perché, per le qualità, non si è sempre il problema del diritto, e qual è la risposta di una parte di un ufficio della casa? Lo abbiamo fatto anche nella scuola, nella scuola, e ne lo possiamo fare. E questo è un elemento di considerazione presente, come lo stava facendo il canale, qual è il problema? E sappiamo che ci sono, ma se ci sono anche diversi, ci sono. Ma è, grazie. E quanto mi interrompo? Verrebbe una cosa di un luogo Non è legata una... No, non è legata una relazione, non è legata una relazione... No, non ero legata, no... Ma io clicheence in considerare che quando per aiuti in papà, di quando una gente ha positenciato, e se presi aू, è del aspetto quello che è la gran pagina. ...e lo faccio vedere, che in questo senso sia anche una forma di intervista per voi, perché anche la scuola del senso, poi la metà del generale, hanno sconfittato ogni unifico di dire le cose del loro. Io penso che il nostro questo è un'attività che aveva facendo, che, quando mi direi, l'approccio sia di polizia che di violice è un approccio, diciamo, ma questo è un'attività di scuola di lì, non si dico, tra l'altro, così, perché anche io ho fatto un'attività che ha un'attività che, anche su questo tempo, in questo punto, mi sta la differenza, ma abbiamo un sessore importante di parte che non aveva bisogno di noi, ma ci non sente, ma veramente, che è una condizione unitaria di giallo.